Amici e amici di Rossini TV, benvenuti, bentornati al nostro appuntamento dal salotto di Fisioradi Medical Center, dove da diversi mesi va in onda la terza stagione di Check-up Obiettivo Salute. Questa sera abbiamo un ospite che conosciamo per la prima volta, il dottor Marco Corzani. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera a tutti. Il dottor Marco Corzani, giovane, medico e con una specializzazione in ortopedia, come vedete è qui con noi originario di Siena, poi con un lungo percorso di formazione che è passato attraverso diverse città, fra cui anche Perugia, Verona e adesso lavora nel Riminese, è qui per raccontarci qualcosa a proposito dei legamenti, degli infortuni legati ai legamenti. Ma lo fa a ragion veduta, perché voi non lo vedete, è seduto, ma è uno sportivo che ha giocato a pallavolo, a livello di Serie B dottore. Sì, ho giocato a Perugia tre anni in Serie B, diciamo ha contribuito fortemente questa passione un po' alla mia poi super specializzazione conseguente sul ginocchio, sulla traumatologia sportiva in particolare, e questo ha contribuito poi a creare quella che è poi la curiosità che muove il professionista attorno a un argomento come questo, quindi con dei corsi, andando un po' all'estero, andando a vedere anche chirurghi che fanno tecniche particolari, insomma, che ti permettono di capire a 360 gradi quello che c'è intorno anche a un infortunio sportivo di qualsiasi natura, insomma. Prima di entrare nel tema che riguarderà una questione interessantissima, perché parleremo di legamenti in generale, una domanda dottore. Nella pallavolo di recente è stato, di recente, ormai sono diversi anni, che è stata cambiata la regola della doppia battuta, ma secondo lei lo sport è migliorato in quel modo o si è troppo velocizzato? C'è un dibattito di anni dietro a questo discorso, io non l'ho vissuta quella fase, sono arrivato già nella seconda fase in cui c'era il cambio palla, è stato fatto per raggiungere un po' di spettacolo e per cambiare un po' il tipo di partita, secondo me è meglio adesso, secondo me. No, perché c'è chi addirittura ne parla a livello di tennis, c'è un'ipotesi che dicono togliamo le due battute e facciamone una sola, e viene da un giocatore, insomma, dei top, che questa idea, ma secondo me è un po', cioè, la seconda possibilità è sempre meglio averla che no. No, quello sicuramente, ora, poi diciamo che oltre a quello la pallavolo è cambiata perché è diventata meno tecnica, più fisica, però anche più spettacolare, per cui è un po' più vicina magari al pubblico, alla televisione, quindi alla spettacolarità, diciamo, aiuta a portare anche dei fan, a portare un movimento maggiore, insomma, attorno a questo tipo di sport, e questo ha contribuito, secondo me. Le vinceremo le Olimpiadi? Allora, podio, secondo me siamo. Siamo da podio, sì. Vincere ci sono squadre come la Polonia che sono un po' più attrezzate, secondo me. Che, peraltro, in Polonia, mi sembra, a casa loro abbiamo vinto gli europei di recente, comunque, non più tardi di un po' di anni fa. Sì, assolutamente, assolutamente. No, no, siamo lì, però loro, secondo me, hanno quel qualcosa in più. Poi c'hanno un fenomeno che è Leon, che giocava a Perugia, questo è stato l'ultimo anno, che, insomma, è un fuoriclasse, insomma. Considerate che Perugia è un po', per la palla a volo, quello che è Milano per il calcio, cioè vince tutto da quest'anno, campione italiano, campione europeo, eccetera. Basta, chiudiamo l'intervallo sportivo, dottore, però ci stava. Anche perché introduciamo così l'argomento di cui vogliamo trattare, cioè gli infortuni che capitano nei legamenti, nello specifico del ginocchio. Però, dottore, capiamoci, cosa sono i legamenti? Tentiamo di fare comprendere al pubblico di cosa parleremo. Allora, i legamenti sono delle strutture fibrose che servono all'articolazione per dare una stabilità. Cioè, abbiamo il femore e la tibia, che sono due ossa che fanno parte dell'articolazione, devono essere tenute in sede durante le sollecitazioni, durante le attività quotidiane, durante l'attività sportiva, devono essere tenute insieme congruenti in modo che l'articolazione possa effettuare la sua funzione corretta. Ci sono, per quanto riguarda il ginocchio, vari legamenti, tra cui il crociato anteriore, il crociato posteriore, il collaterale interno e il collaterale esterno, che sono i più conosciuti e i più importanti. I crociati servono per, sia l'anteriore che il posteriore, in modo un po' differente, a mantenere la stabilità tra femore e tibia, soprattutto nelle traslazioni in antero-posteriore. Quindi una lesione di un crociato, di solito il crociato anteriore è quello che si lesiona nel 90% dei casi, un paziente che ha una lesione del crociato è sottoposto a un'instabilità di questa articolazione, quindi ha una traslazione maggiore in antero-posteriore e in rotazione. Quindi questo è quello che percepirà il paziente a cui capita questo tipo di infortunio. Ed è un tipo di infortunio, appunto, che è molto spesso di origine traumatico, oppure una gamba messa male, una caduta storta, potrebbe essere anche proprio uno scontro, uno scontro fisico. Assolutamente. Il meccanismo più frequente è con il ginocchio in valgo, cioè verso l'interno e in rotazione. Capito? Ginocchio all'interno e rotazione esterna. Se il piede soprattutto rimane fermo a terra, viene da pensare o un atterraggio da un salto, oppure un contrasto nel gioco del calcio, insomma, in varie situazioni di solito è questo il meccanismo traumatico più frequente. Il secondo meccanismo traumatico più frequente sono gli incidenti stradali, tipo trauma da cruscotto, caduta da moto, che causano una torsione della tibia sul femore, questo causa la rottura del crociato. Allora, quando poi si rompe il crociato è un problema e nella maggior parte dei casi si opera oppure no? Oppure c'è modo di intervenire in... Allora, quando si rompe il crociato non guarisce. Purtroppo non è suturabile, non è riparabile, ha una vascularizzazione, cioè ha delle arterie, diciamo, che lo percorrono, che una volta rotte non garantiscono una riparazione cellulare. Per cui noi ci dobbiamo un po' inventare una ricostruzione. Noi usiamo, per esempio, dei tendini intanto, noi mettiamo dei tendini al posto di quello che è il vecchio crociato, tramite dei tunnel ossei, mettendoli nello stesso punto dove era il vecchio crociato. Si opera quando... non sempre, non è obbligatorio operare un crociato, si opera quando c'è un'instabilità percepita dal paziente. Cioè il paziente magari... può anche non essere uno sportivo, un lavoratore, un paziente, un magazziniere che sale le scale più volte al giorno, si è rotto il crociato, ha un ginocchio che non è stabile, che... in cui percepisce decedimenti, percepisce magari nelle torsioni una scarsa fiducia su questo ginocchio, a volte ci può essere del gonfiore. Insomma, in questi casi si pensa all'intervento di costruzione. Beh, chiaramente poi quando accade l'infortunio c'è una fase anche di dolore, di dolore importante ed è un dolore proprio profondo, che si sente profondamente all'interno del ginocchio, e a quel punto lì, cioè la persona potrebbe essere comunque in grado, superando l'aspetto del dolore, di fare la sua attività quotidiana, oppure no, bisogna in qualche modo... Allora, faccio una piccola precisazione. Il dolore non è sempre frequente, cioè non è sempre presente, volevo dire. E può anche non esserlo, soprattutto perché il crociato non si lesiona sempre con un trauma unico. Spesso e volentieri uno sportivo di vecchia data ha vari microtraumi, oppure vari contrasti, per esempio in un calciatore, in cui il crociato si rompe in uno, due, tre infortuni, capito? E in quel caso lui si allenta sempre di più fino a diventare non valido, capito? Perché non c'è la lesione del crociato totale o no. Può essere anche parziale. Il fatto è che questo causa poi, anche se è parziale, un'invalidità e quindi comunque un'instabilità del ginocchio. Beh, però un discorso è parlare di lesione, un altro discorso di rottura. Sì, esatto, esatto. La rottura si riferisce a quella completa, la lesione è quella di una percentuale del diametro di questo legamento, che comunque può essere percepita dal paziente come un'instabilità. Si può assolutamente fare una vita quotidiana con un crociato rotto, per rispondere alla domanda precedente, perché non sempre dà dolore, ci può essere del gonfiore, non sempre c'è un'instabilità franca, perché magari una persona che fa l'impiegato, che ha un lavoro abbastanza sedentario, non percepisce particolari fastidi, magari non fa sport, e quindi quello è un paziente che può vivere tranquillamente con un crociato rotto, insomma. Ok, e invece nel momento in cui si dovesse operare, soprattutto parliamo di persone giovani, di persone che fanno sport, il decorso qual è? Allora, diciamo che è lungo purtroppo, perché noi mettendo dei tendini, come dicevo, al posto di un legamento, questi tendini hanno una struttura diversa da quelli dei legamenti. Scusi la domanda, questi tendini li prendiamo sempre dalla... Sempre dallo stesso ginocchio del paziente. Sempre dallo stesso ginocchio, esatto. Noi usiamo il tendine gracile semitendinoso, che fanno parte degli aduttori, e questo dà un 20% di forza in meno della gamba in flessione dopo, però è stato visto che comunque questi tendini in parte si riformano. E, diciamo, le tempistiche di recupero classiche, di ritorno allo sport, sono dai sei mesi dall'infortunio. Sono lunghe perché, come dicevo, questa è la tempistica che serve a questi tendini per diventare più simili possibile a un legamento nella loro struttura durante il tempo. Insomma, bisogna dargli il tempo di ligamentizzarsi fondamentalmente. Quindi ci sarà appunto questa fase operatoria, poi la fase di rieducazione, ovviamente nella quale un'importanza fondamentale c'era la fisioterapia. Allora, il 50% diciamo del risultato finale è l'intervento, l'altro 50% è la motivazione del paziente e la fisioterapia, perché è un intervento che, soprattutto all'inizio, può dar dolore, bisogna superare un po' di apprezzione, perché, oddio, magari il paziente ha un po' di preoccupazione di far qualcosa di sbagliato, cose così. Lì il terapista è fondamentale, che ha un supporto sia tecnico, ma anche psicologico per il paziente. Deve dire quello che si può e non si può fare, e deve spronare il paziente, soprattutto il primo mese, che è quello più antipatico, dove bisogna recuperare la mobilità del ginocchio. Lì è una figura cardine, insomma, più dell'ortopedico. E chiaramente c'è differenza nel momento in cui, spacchettiamo il discorso, dovesse affrontare la rieducazione una persona, appunto, di una quarantina d'anni, 40-50 anni, che comunque reduce dall'infortunio, ma vuole tornare il più possibile attivo nello sport, è uno sportivo professionista. Parliamo prima della parte che riguarda tutti noi, cioè succede un incidente, ecco, a 40-50 anni, qual è il tempo per recuperare e come recuperiamo? Allora, a 40-50 anni è un discorso un pochino più complesso, perché dipende da quello che fa il paziente, dalle condizioni fisiche del paziente e dallo sport che fa. Perché intanto a 40 anni anche i tendini sono meno di qualità, quelli che andiamo a mettere nel ginocchio. La muscolatura è di minor qualità, soprattutto se il paziente magari fa uno sport saltuario o fa un lavoro sedentario, capito? Quindi va valutato caso per caso e anche lì dalla visita si riesce a capire anche quanto il ginocchio è instabile. Poi ci sono, in questo tipo di pazienti, entrano in campo altre soluzioni che la tecnologia un po' ci dà. Ci sono, per esempio, c'è la possibilità di passare attraverso i legamenti sintetici. Ci sono legamenti che sono tipo delle fibre di Kevlar molto resistenti che ci permettono di non andare a prelevare i tendini del paziente stesso, ma di andare a mettere questa specie di tutore interno al ginocchio che ha sicuramente tempi di recupero un po' più brevi rispetto all'intervento di crociato tradizionale e si può anche vagliare con il paziente over 40. Ma non converebbe fare sempre questo? Nell'over 40 sì, under 40 ancora la letteratura scientifica non si è espressa, quindi bisogna aspettare ancora un po' più di tempo per vedere come andranno le ricerche. Ok, e comunque valutare giustamente caso per caso perché siamo tutti diversi, le reazioni sono tutte diverse, fisicamente siamo fatti tutti in maniera diversa. Torniamo indietro invece allo sportivo, lo sportivo professionista che è un incidente importante, grave, per il quale si rompe i legamenti crociati del ginocchio. Abbiamo un esempio che, così per rendere esplicita la situazione, quella del calciatore Federico Chiesa, giovane, una delle migliori speranze italiane, giovane a livello italiano, perché appunto lo dicevamo prima fuori onda, dottore, la Spagna fa giocare uno di 16 anni, che è veramente giovane, Chiesa che ne ha 23-24 è meno giovane, però lui è reduce da un infortunio grave perché si è rotto il legamento crociato anteriore ed effettivamente l'impressione è che è quello che faccia molta fatica a tornare a essere quello di prima. Allora, vi riporto un dato che secondo me è curioso, nel senso che allora solo l'80% di chi si rompe il crociato torna a fare attività agonistica, di questi solo il 65% torna alla situazione in cui era prima dell'infortunio. 65% dell'80%, quindi è un infortunio che già quando ci avviene noi sappiamo che può mettere a rischio la nostra carriera. Ci sono molte variabili, per esempio le lesioni associate, menischi, collaterali, che si possono rompere nell'infortunio e chiaramente insomma... Complicano ulteriormente la cosa. Complicano il recupero assolutamente, capito? È vero perché se si lesionano più... Più strutture, capito? Quelle anche loro sono diciamo coinvolte nel... poi anche diciamo in una prognosi, nel futuro di quel ginocchio, insomma, sulla compromissione futura del ginocchio. Allora, ma se un medico come lei dovesse dare un consiglio a un giovane che intraprenda a fare uno sport, fai uno sport che è meno soggetto possibile a infortuni di questo tipo, cosa dovrebbe fare? Nuoto. Nuoto. Bicicletta. Anche bicicletta? Anche bicicletta, sì. Ci sono chiaramente le cadute, però diciamo la bicicletta... Io poi, ecco, ora ne approfitto un attimo, è interessante vedere come alcune fisicità sono più portate a alcuni sport rispetto ad altre. Questo lo vedo un po' nella pratica quotidiana. Per esempio, ci sono i pazienti, quelli che si chiamano iperiassi... A lei per esempio la vediamo più giocare a pallavolo che a ping pong. No, esatto. Per esempio ci sono pazienti che hanno una grossa lassità dei legamenti e questo li può, diciamo, li predispone enormemente a delle distorsioni. Quindi se un paziente di quel tipo, con quelle caratteristiche fisiche, va a fare uno sport di contatto come il calcio, si mette in un rischio estremo di infortunio. Se invece pratica sport come il nuoto, come magari potrebbe essere la ginnastica, lo yoga, queste cose qua, invece la sua caratteristica diventa un fattore di forza. Quindi anche questo credo sia uno spunto interessante. E quindi una valutazione sicuramente da fare. Dottore, grazie. È stato davvero molto molto interessante parlare con lei perché ci ha aperto un mondo su questo tipo di infortunio che purtroppo capita. Però abbiamo capito che si può affrontare e soprattutto abbiamo anche capito che con tanta forza di volontà, si può provare a superare non solo a livello sportivo professionistico. Grazie dottore. Grazie a voi. Continuate a restare sul canale 80 di Rossini TV. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.